Occorre raccogliere l'invito del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari a attivare al più presto un tavolo di confronto con la Regione. Così il Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganao, che interviene in merito all'avvertenza Secur. Da oltre un mese, gli ex lavoratori della Secur, spiega il massimo rappresentante dell'Assemblea Sarden, una lettera inviata questa mattina al Presidente Pigliaro, l'assessore della Sanità Arru, vivono accampati nella centrale piazza d'Italia, portando avanti una protesta silenziosa ma determinata con l'obiettivo di vedere riconosciuti i propri diritti. Nei giorni scorsi, prosegue Ganao, il direttore d'Urso ha dimostrato grande sensibilità rendendosi disponibile a trovare insieme alla Regione tutte le soluzioni utili e percorribili. Occorre calendarizzare al più presto un incontro, sollecita il Presidente nella lettera. Intanto i lavoratori hanno passato la ventotesima notte in tenta nel presidio di piazza d'Italia dopo la visita sorpresa di sabato mattina del Ministro Luigi Di Maio. Ieri il deputatore della Lega, Guido De Martini, ha incontrato gli ex dipendenti Secur che gli hanno raccontato i motivi della loro protesta.